Martedì 3 settembre si è riunito il Consiglio Comunale della città di Tolentino. In apertura il Presidente del Consiglio ha fornito una serie di informazioni relative agli allagamenti di alcune abitazioni in via San Catervo. Di seguito è stata trattata l'interrogazione presentata dal Consigliere Mercorelli relativa ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale Caporicci. Dopo l'introduzione del Sindaco Giuseppe Pezzanesi, il Presidente dell'ASSM-SPA Stefano Gobbi e l'amministratore delegato Alberto Pazzaglia hanno illustrato la situazione economico-gestionale dell'azienda a cui è seguita un'articolata discussione. All'unanimità è stato dato parere favorevole alla fusione per incorporazione dell'ASSM-SPA e ASSM-Gestione Reti SPA. Sempre all'unanimità è stato concesso l'affidamento della gestione dei parcheggi all'ASSM. Approvata con 14 voti favorevoli e uno contrario anche l'acquisizione di un'area in diritto di superficie da ASSM per la realizzazione di un edificio da adibire al centro logistico comunale. Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti è stato approvato l'atto di indirizzo per la transazione con Gasparrini-Tarcisio e Roberto relativa alla messa in sicurezza della scarpata in zona foroboario. All'unanimità è stato approvato l'atto di indirizzo inerente alla partecipazione allo studio di valutazione epidemiologica riguardante i residenti nelle aree circostanti all'impianto di trattamento RSU del Cosmani. Infine, all'unanimità, è stato approvato il secondo aggiornamento settembre 2013 nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.